Come ha avuto la qualità dell'umido raccolto a Milano? Le diverse zone che vanno dal centro verso la periferia abbiamo puntualmente trovato una qualità superiore al 95% che per noi è il limite di eccellenza per consentire la trasformazione e la valorizzazione di questo materiale in impianti a tecnologia semplice, ma c'è di più perché nella gran parte dei campioni in realtà eravamo al di sopra del 98% di purezza merceologica, di qualità, il che significa limiti di assoluta eccellenza e ancora una volta confermano che le raccolte differenziate secondo il modello italiano generano in genere tipicamente dei risultati migliori che le stesse raccolte in altri contesti europei per quanto la cosa possa sembrare paradossale.